I vini abruzzesi nel corso del tempo hanno scalato le classifiche nazionali e internazionali. Questo lo si deve moltissimo alla volontà, alla forza, alla resilienza di tanti produttori e alla capacità economica di leggere il mercato di alcune cantine sociali. Nella filiera l'associazione italiana Sommelier è la cinghia di trasmissione tra un prodotto di grande qualità e la sua conoscenza sul territorio. Il Wine Festival serve a premiare questi sforzi e a sottolineare le capacità affinché ci sia sprono per continuare a crescere dal punto di vista qualitativo, oltre che quantitativo. Il vino abruzzese è oggi un asset strategico della nostra economia regionale, è un grande attrattore di marketing territoriale, è un elemento che ci contraddistingue con i nostri vini in tutto il mondo e noi dobbiamo cercare di sostenerlo meglio di più di quanto sia stato fatto senso qui. Premiamo le eccellenze abruzzesi con le loro tipologie più importanti, quindi vitigni autoctoni abruzzesi, legato anche alle migliori cantine, c'è un premio speciale della Regione Abruzzo per un'azienda agricola, una sorta di ripartenza dopo la pandemia per aiutare i produttori a continuare a stare sul mercato e noi operatori a continuare a pensare di poter lavorare in un altro modo.